Il mercato continua a crollare, ma noi di investitori 100 giorni continuiamo a guadagnare. Questo perché siamo noi i divini trader del sacro graal? No, non facciamo nulla di speciale, non abbiamo neanche delle strategie super avanzate. Semplicemente sfruttiamo molto bene il mindset, perché essendo un business coach ne so abbastanza sull'argomento. Ti spiego in questo video come facciamo a guadagnare e soprattutto ti farò vedere i risultati. Quindi buon video! Benvenuti a tutti, io sono Mino Ciardo e sono un investitore e un business coach. Aiuto sia persone a guadagnare il 15-30% annuo con una dura settimana, ma aiuto anche trader che già fanno trader da tanti anni e conoscono le varie strategie a guadagnare di più e a migliorare le proprie performance. Ora torniamo a noi. Investitori 100 giorni, come detto, il 15-30% annuo con una dura settimana. Io seguo solo 5 persone in mentoring alla volta e quindi adesso ti condividerò lo schermo e andiamo insieme a vedere effettivamente quali risultati abbiamo ottenuto nel mese di maggio e nel mese di giugno, almeno fino adesso. Perché ti devo dire che da quando segniamo i risultati, finalmente tutti li possono vedere, perché tutto viene fatto in live trading. Eccoci qua. Allora, queste sono le opzioni. Ve ho già mostrato i risultati di maggio che erano molto interessanti. Come abbiamo aperto giugno? Abbiamo aperto con queste due grandi perdite, soprattutto questa di 5,94. perché effettivamente è un po' falsato questo dato. Aspettate che ve lo coloro, come vi dissi anche nel feedback di maggio, perché questo spread e questo spread sono lo stesso spread che non so per quale motivo avevamo separato. Quindi, avendoli separati, risulta che a maggio abbiamo guadagnato 615 dollari e che a giugno abbiamo perso i 5,94. E in realtà, semplicemente, ci abbiamo guadagnato 19 dollari tondi. Quello che vi voglio far vedere è come ogni tanto decidiamo di portare a casa un pochettino di soldi. E' quello che abbiamo fatto. Se andiamo a vedere, giugno, dall'1 al 15 non abbiamo chiuso nulla. Mi ho lasciato tutto aperto, la volatilità era impazzita, tutti prendevano stop e tutto quanto. Noi eravamo lì fermi. E poi, cosa abbiamo deciso il 15? I 15 giorni, importante perché la Fed rilasciava delle dichiarazioni, prima che rilasciasse le dichiarazioni, siamo andati a portarci a casa questi premi qua. Mettendoci comunque al sicuro e dicendo, caspita, io intanto mi metto al sicuro. Quindi, effettivamente, andando a vedere il tutto, anche questo valore credo non sia giusto. Fatemelo controllare. Ah, no, no, è giusto. Nel giro, in questo momento, di un mese e mezzo, sono 581 dollari. E come mostrai già, solo nel mese di maggio, che sono queste qui indicate, la cifra è stata 1017 dollari, che corrisponde all'incirca a un 5% al mese e addirittura un 61% annuo. A me non interessa portare avanti queste cifre, anche perché non ci fosse stato questo 615 dollari, non avremmo fatte queste percentuali. A me interessa che passi il messaggio che si può fare in maniera molto tranquilla un 5-15% annuo. Perché è quello che noi puntiamo. Infatti, in giugno, non faremo un 5% mensile. Molto probabilmente no. Anzi, in questo momento, per questo numero qui, siamo addirittura in negativo. Ma è questo il modo di operare. E ci mettiamo 20 minuti a settimana per portare a casa queste operazioni. Stesso vale per le weekly. Se andassimo un attimo sulle weekly, ci accorgiamo di questo. Guardate quanti profitti abbiamo portato. Questi sono nel mese di giugno. Soltanto in due settimane. Due settimane non sono tanti soldi. Sono... Anzi, perché immaginare quanti possono essere? Ci mettiamo direttamente una bella formula. Allora, scriviamo insieme. Uguale. Somma. E andiamo a verificare. In questo momento, quello che abbiamo portato a casa con le weekly, sono 72 dollari. Sempre con 20 minuti al giorno. 72 dollari perché ci stiamo esponendo poco. In che senso ci stiamo esponendo poco? Visto che il mercato è molto debole, il rischio è di farci assegnare su troppi sottostanti. Quindi stiamo più che altro giochicchiando sui sottostanti. Differente operazioni sono ancora aperte e non abbiamo incassato il tutto. Se andiamo a vedere quello che abbiamo fatto, invece, fra maggio e giugno, sono 782 dollari. Che abbiamo usato un capitale di 20.000 dollari, eh? Però effettivamente non abbiamo mai usato più di un capitale da 10. Quindi penso che andrò a cambiare quel valore. Le percentuali quindi sono doppie rispetto al capitale di riferimento. Infine, quello che voglio farvi vedere è lo spread trading. Lo spread trading non lo vedete qui, ma abbiamo fatto un'operazione molto particolare. Qui veramente abbiamo fatto due operazioni per portarci a casa l'essenziale. Qua mancano operazioni di ZC che sono altri 300 dollari circa, che la chiuderemo penso domani, dopo domani, non molto tardi. E in più vi dico che su Lating Oil eravamo in perdita di 3.500 dollari. Cosa abbiamo fatto lì? Ci sono tutte le live e le testimonianze di chi le ha viste. Abbiamo separato queste due operazioni. Abbiamo prima portato a casa una perdita di 31.000 dollari e poi un guadagno di circa 30.000 dollari. Eravamo sotto di 1.000 dollari e con un future singolo stiamo andando a recuperare quella cifra per andare addirittura in positivo. Questo è saper fare investimento. Come già detto, questa non è una cosa semplice. Io ci ho messo anni per arrivarci. Quello che voglio è ridimostrare, ridire, che in maniera tranquilla si può fare il 5-15% anno. A me non interessa che voi veniate a fare il corso con me. Ciò che a me veramente interessa è che facciate dei corsi in cui non ci sia solo la schifezza registrata. Io il mio corso registrato lo svento a 300 euro per chi lo vuole. Prenditelo, non lo voglio, non voglio più soldi. Vedo gente assurda che chiede 2.000 euro per un corso registrato, non so come. Vabbè, oltre al corso registrato ci devono essere delle live trading. Ci sono diversi corsi che hanno le live trading, fortunatamente. E quelli sono i migliori. E poi, se vuoi veramente fare il salto di qualità, ti serve il mentoring. Quindi una persona che ti segua one to one. Perché è lì che veramente una persona va a capire come ti può aiutare. Io da business coach cosa faccio? Essendo esperto della parte mentale del trading, capisco effettivamente quali sono le cose che li fanno perdere. Perché molte persone che arrivano da me hanno fatto già altri corsi, magari anche con live trading, e non hanno guadagnato. Perché è tutto qui. Bisogna capire cos'è qui che non gira. Io ti assicuro che facendo per investitori 100 giorni, nel giro di 100 giorni, se fai il percorso come si deve, diventerai un investitore indipendente. E quello è il mio grande obiettivo, è la mia grande mission. Niente di più, niente di meno. Come detto, posso aiutarti anche se sei già un investitore esperto, perché non mi interessa venderti nulla. Semplicemente aiutandoti in coaching a migliorare le tue performance. E, non meno importante, ho anche un percorso in ETF. Per chi comunque dice, non ne voglio sapere troppo. Quindi che cosa facciamo? Ti do il corso registrato, impari, poi 4 coaching e 4 live trading. Per essere sempre aggiornato e per crearsi un portafoglio di lungo termine. Sia per crearsi una pensione, ma anche una rendita aggiuntiva. Bene, ho parlato troppo, sono rimasto anche senza voce. Quindi io con questo li saluto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Grazie a tutti!